ah eccoci a casa così ora francesca cioè fragolina o selisia possono togliergli la magnetizzazione esatto selisia fragolina state pronte sì lo faccio io o te meglio se lo fai tu io ho già fatto troppi danni staccatura colla amicizia che di io do a loro solo l'amicizia e la separazione invece l'incollatura e la litigazione tornano nel libro azzara mitrio io perché dovrei tornare amico di questo si tornare amico di lui stavo per dire vabbè o non è così mi sei mancato anche tu non sto come ringraziarti fragolina ok non è che ti ha dato un potere a te no no è solo che c'è stata una forza enorme quindi il potere mi è spazzato via bene ora mettiamo il libro via prima che ci sia qualche altro malori esatto lo faccio scomparire ma mi sono sempre chiesto sai tu di solito lo fai scomparire e lo porti al posto ma dove lo metti già io l'avevo trovato ma era per il potere cioè degli occhiali raggi x beh ma in realtà all'inizio non avevo un posto preciso e poi ho deciso che parli un po piano perché ho sempre paura che ci siano craig e oscure torne le vicinanze ma non essere ridicola loro lo so ma sai craig è tornato per esempio ma poi lo chiamo craig perché ragazzo invisibile troppo lungo e poi cioè non sappiamo se è tornato invisibile non sappiamo neanche dove sono andati già non lo so neanche io ho deciso di ho fatto qualche giorno fa mi sapete nel nostro nascondiglio che ora te sarà concesso iupi ho detto di scavare una buca e sotterrarlo e lo ricopro per ricordarmi dov'è sopra ci ho piantato un fiore fucsia però è finto almeno le radici non si incastrano nel libro che idea splendida e già e lì c'è un allarme se qualcuno va a scavare lì suona però non suona forte se non ladro scappa io ho sempre nel fiocchetto sempre un auricolare ecco e che suona io lo sento se volete anche a voi così se io sono via tipo magari sono in un altro paese si mi teletrasporto ma magari sto facendo un'altra cosa ecco lo mettete tutti ecco qui li metto nei capelli almeno non li togliete e voi nei baffi anche te nei capelli perfetto sono molto stanca già è stata una giornata faticosa stavo per suggerire un film ma l'abbiamo già visto poi sono proprio stanca mentalmente e fisicamente allora andiamo a dormire nel nostro nel nostro luogo servieto davvero me lo concedete ma certo ormai sei nostra amica iuppi allora andiamo ma ci sta ma si può far apparire un altro letto e allora andiamo dici nei commenti se l'incantesimo ha funzionato cioè si è funzionato ma magari potrebbe tornare e secondo te dove sono andati craig e ex ragazzo invisibile o craig io non so natural di quello già ma avremmo nascosto bene il libro di incantesimi gli auricolari funzioneranno beh ora andiamo aloha non dimenticare di iscriverti e abbonarti e lascia un commento se ti è piaciuto questo episodio metti un like aloha aloha a